Benevento batte Pescara 2 a 1 e nel primo tempo il Pescara ha interpretato anche bene la partita nei primi 20 minuti prima di concedere il calcio di rigore su un'azione nata da un episodio un po' strano perché il Pescara ha ridato palla dove voleva il Benevento dopo che era stato interrotto il gioco senza metterla, mandarla nella metà campo avversaria. Da quel cross poi è nato il tocco di mano di Ciofani, dal dischetto è andato Coda che però ha tirato fortunatamente per il Pescara alla destra della porta difesa da Fiorillo. Nulla di fatto, il Pescara ha avuto una ghiotta palla gol con Leo Mancuso pescato in verticale da Gaston Brugman Mancuso però è arrivato con un pizzico di ritardo all'appuntamento quando erano occhi negli occhi con il portiere Montipò al 43esimo è arrivato invece il gol dell'1 a 0. Solita palla persa del Pescara all'altezza della linea mediana del campo Bandinelli manda in profondità Coda che calcia con il destro senza deviazione di Gravillon e la palla termina all'angolino alla sinistra dell'incolpevole Fiorillo. Nel secondo tempo Pillon si gioca la carta Capone al posto di Marras arriva il pari Monachello, sterza bene all'interno dell'area di rigore Cross che viene ribattuto fuori proprio sui piedi di Capone che in verticale imbecca Mancuso tenuto in gioco da volta pallone all'angolino e 1 a 1. Il Pescara si copre, passa alla difesa 3 con Campagnaro 3-5-1-1, 3-5-2 il sistema di gioco, entra anche Melegoni quindi Crecco e Balzano si spostano sugli esterni al posto di Ciofani entra Melegoni ma nel finale arriva la Beffa prima Coda con una girata, centra il legno poi sugli sviluppi di un dubbio corner che ha fatto infuriare Pillon che infatti è stato espulso dal direttore di gara Volta completamente perso addirittura all'interno dell'area piccola ha tutto il tempo per staccare e mandare la palla alle spalle del portiere Fiorillo al 49esimo, timida reazione della Pescara ma il calcio piazzato di Ledyan Memushay termina direttamente tra le braccia di Montipò al vigorito Benevento batte Pescara 2-1